Roberto Bettega è uno dei sei giocatori ad aver realizzato quattro gol in una sola partita con la maglia della nazionale. Il 15 ottobre del 1977 infatti è suo il poker che stende la Finlandia nella decisiva gara di Torino valida per le qualificazioni ai mondiali del 78. Nel giorno della sua dodicesima presenza il centravanti azzurro inizia lo show al minuto 29 quando con lo splendido colpo di testa in tuffo si lancia sul perfetto cross di Causio. Trascorrono nove minuti e lo schema si ripete questa volta da sinistra attraversone di Causio ed incornata vincente di Bettega 2 a 0. Prima dell'intervallo poi ci pensa Graziani a firmare il tris con un gran destro potente e preciso. Per il tris personale di Bettega bisogna invece attendere il quattordicesimo della ripresa sulla sponda di Benetti l'attaccante della nazionale mette a sedere due avversari e tu per tu con il portiere non sbaglia 4 a 0. Tre minuti più tardi il centravanti della Juventus incorona la sua giornata di grazia siglando ancora di testa la rete del 5 a 0. Al triplice fischio l'Italia si impone così per 6 a 1 sulla Finlandia. Quel giorno però per tutti è ricordato ancora oggi come il tripudio in azzurro di Roberto Bettega uno dei bomber più amati e apprezzati nella storia della nazionale italiana.